Mi è venuta l'idea di fare un rock and roll dentro la fontana, però pensavo che ci fosse molta più acqua, così è troppo semplice, volevamo fare una cosa molto diversa, l'acqua quella che vuoi vedere ce n'è poca, siamo io e la Betty, vogliamo insieme da 50 anni, aveva 40 anni, 50 anni fa adesso non era una, avevo due. Vidi, vedi, vedi, vedi. Grazie a tutti.